la saggezza dei vecchi c'era nei tempi antichi un regno in cui vigeva l'usanza di portare in campagna e seppellire vivi i vecchi che erano giunti all'età di 70 anni affinché con la loro petulanza e con i loro acciacchi non arrecassero fastidi ai figli questa malvagia usanza addolorava gli animi buoni ma non si poteva distruggere se non per volontà del re fra i tanti che dovevano essere seppelliti vivi ci fu un vecchio saggio e indefesso lavoratore che era amato assai teneramente dal figlio il quale quando il padre raggiunse i 70 anni se lo caricò sulle spalle e lo portò in campagna per compiere quello che la legge gli imponeva giunto al camposanto si mise a scavare la fossa in cui doveva seppellire il pover uomo e con l'animo straziato lo baciò per l'ultima volta il vecchio piangendo gli disse figlio mio tu non ne hai colpa anch'io venne in questo luogo a seppellire mio padre come egli aveva seppellito mio nonno ma mi duole nel pensare che questa legge supprima violentemente le persone che con loro lavoro hanno fatto tanto bene all'umanità e con la loro saggezza possono giovare ai giovani il dio governa il mondo e solo lui ha il diritto di togliere la vita il figlio non ebbe il coraggio di seppellire il padre e lo riportò di nascosto nel suo paese fece murare un angolo della sua casa in cui nascose il vecchio e da una ciminiera gli faceva arrivare l'aria e il nutrimento nessuno sapeva che egli viveva un giorno il re ordinò ad un artista di fargli un cocchio d'oro e d'argento tempestato di pietre preziose e le spose all'ammirazione dei sudditi tutti andavano a vedere quella rarità e ne decantavano le bellezze il re volle che ne giudicassero il valore e promise la mano della figlia a chi sapesse valutare il prezzo tanti nobili e cavalieri si provarono di valutarlo chi diceva un prezzo chi un altro ma di nessuna risposta il re fu contento il nostro contadino volle interrogare il vecchio padre per sapere la sua opinione al riguardo e quegli gli rispose vale tanto il cavallo ed il carrozzino quanto vale una pioggia di maggio o due d'aprile con queste parole voleva alludere al grande beneficio che apportano ai seminati le piogge in aprile e maggio per cui si hanno abbondanti messi e quindi grandi ricchezze il giovane si presentò al sovrano e volle valutare il cocchio ripetendo le parole udite dal padre al re piacque molto quella risposta e vedendo quanto fosse intelligente chi l'aveva data gli promise di sposare la figlia il re però volle sapere chi gli avesse suggerito quella massima il contadino temeva ad essere ucciso se diceva che l'aveva sentita dal padre ma avute assicurazioni del re che non gli sarebbe stato torto un capello riferì che non aveva avuto il coraggio di ammazzare il padre e che questi gli aveva data quella risposta il re rimase colpito da tale racconto e si convinse anche lui che non era giusto uccidere i vecchi i quali con la loro esperienza e prudenza possono giovare tanto alla società quindi fece liberare da quella specie di prigionia il buon vecchio e abolì l'infame usanza durata per tanti anni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti